Il Service Point è una postazione self-service installata presso le nostre aziende clienti e sempre connessa attraverso internet ai sistemi Trankwalder. Consente al lavoratore di gestire a distanza tutte le pratiche amministrative, solitamente svolte in filiale. Con il Service Point anche il lavoratore che non dispone di un collegamento internet personale può, in totale autonomia, firmare contratti e proroghe, consultare l'archivio elettronico e stampare i documenti attinenti al rapporto di lavoro, come i contratti, le buste paga e il CUD, timbrare le presenze e contattare in tempo reale la propria filiale Trankwalder. Il Service Point è stato sviluppato nell'ottica di modernizzazione e automazione dei processi per portare direttamente a casa del cliente e del lavoratore i propri servizi e migliorarne l'erogazione. Trankwalder Servizi Online. Sign the change.